Comune di Prato, Ampi, Arci e CGL hanno fermato il documento Uniamoci per salvare l'Italia, appello per una grande alleanza democratica e antifascista con cui viene recepito l'appello lanciato dalle rispettive strutture nazionali il 16 gennaio. Dopo una fase come quella abbiamo vissuto, in cui ovviamente tutte le nostre vite sono state travolte da qualcosa di nuovo, in cui c'è la necessità di ripartire prendendosi cura delle debolezze che questa situazione ha creato, in cui ancora non ci sono certezze salde su quelle che saranno le ipotesi di futuro, in cui la nostra città, il contesto nazionale vorrei dire si muove. C'è bisogno di stringere i bulloni democratici del nostro agire pubblico. Dobbiamo fare una restaurazione invece, ripartendo da quelli che sono i valori fondativi di questa città, da quelle che è l'alta civiltà di questa città. L'obiettivo è costituire una grande alleanza democratica e antifascista per la persona, il lavoro e la socialità, per contrastare la crescita delle disuguaglianze, combattere l'avanzare delle mafie e della corruzione, sostenere il valore della vita, la dignità della persona umana e il diritto a un lavoro dignitoso e in sicurezza, rivendicare la tutela della salute come diritto fondamentale, la centralità della scuola e della formazione, la piena e reale libertà di informazione. Ha il senso di promuovere un qualcosa che va verso la civiltà e verso un modo di interpretare la società a cui noi teniamo. Grazie a tutti.